. Lo scherzo di Giulia Delellis a Luca Onestini . Giulia Delellis fa uno scherzo a Luca Onestini e il video spopola sul web. Il video dello scherzo di Giulia Delellis a Luca Onestini al Grande Fratello Vip è il più cliccato di questa settimana. La prima finalista del noto reality è riuscita, ancora una volta, a conquistare la maggior parte dei telespettatori. Ma è proprio l'amicizia nata tra lei e Luca che sta appassionando i fan. Entrambi provengono da uomini e donne dentro la casa più spiata dItalia sono diventati ormai inseparabili. . Qualche giorno fa, Giulia ha pensato bene di fare uno scherzo a Luca. Con la complicità di Ignazio Moser, la Delellis ha fatto finta di svenire di fronte agli occhi dellOnestini. Quest'ultimo ha iniziato a urlare e a correre incontro a Giulia, la quale si è subito voltata ridendo. Luca non ha proprio apprezzato questo scherzo. . Infatti, l'ex tronista si è preso un bello spavento nel vedere la Delellis scrollare a terra priva di sensi. . Lo scherzo di Giulia Delellis al Grande Fratello Vip approvato dai fan. Luca Onestini si è preso proprio un bello spavento, quando ha visto Giulia crollare a terra. . Il giovane non ha di certo perso tempo ed è corso a soccorrere l'amica. Sicuramente, in questo modo, la Delellis ha potuto comprendere che Luca ci tiene parecchio a lei. Tra i due è nata una bella amicizia. . . Oltre loro, fanno parte del piccolo gruppo Ivana Mrazova e Raffaello Tonon. . In particolare, quest'ultimo è diventato un grande amico di Luca, tanto che il pubblico non riesce più a contarli come singoli concorrenti. . Si tratta di una coppia che è entrata nel cuore di tutti i telespettatori. . Giulia, Ivana, Luca e Raffaello inseparabili al Grande Fratello Vip. . Non è da meno la coppia composta da Giulia e Ivana, le quali più volte hanno ricevuto diversi messaggi aerei dai fan. . Nel frattempo, sappiamo che questa sera verranno eletti altri quattro finalisti che affiancheranno Giulia, Daniele Bossari e Aida Jespica. . Non ci resta che attendere per scoprire chi prenderà parte alla finale. . Clicca qui per vedere il video dello scherzo di Giulia e Luca. .